Ben tornati in studio, riprendiamo dal garantista, riprendiamo dall'edizione di Cosenz che è concentrata naturalmente sulle dimissioni di Mario Occhiuto. Vediamo i commenti in seno alla politica Bruzia, bye bye Mario, golpe a Palazzo dei Bruzzi, bye bye Mario, 17 consiglieri sfiduciano il sindaco, le firme contro Occhiuto già depositate dal notaio, decisiva l'adesione in serata di Morrone e Pino Spadafora. E ancora l'affondo di Ernesto Magorno che già aveva chiesto qualche giorno fare dimissioni dell'ormai ex sindaco di Cosenz. Esperienza amministrativa conclusa, città mortificata da una quotidiana pratica di illegalità e favoritismi, il centro-sinistra è in campo con un progetto alternativo per una rinascita democratica. E sono accuse e commenti molto pesanti quelli di Magorno. Scenari, terremoto a Palazzo dei Bruzzi, ma traballa anche la provincia. Quindi ancora politica, un'ipotesi ormai di scuola, visto che i consiglieri non hanno sfidato il sindaco in consiglio, anzi non è discorso quando le primarie sembravano sparite dall'agenda politica. Il clima della sala consigliare di piazza, 15 marzo, era più tetro che pesante. Parte degli oppositori in prima fila, il PSE, aveva disertato la seduta, poi il colpo di mano preceduto da una campagna al vetriolo che ha incluso anche, accenni a un potenziale arrivo della commissione d'accesso. La seconda ipotesi sarà reale dal lunedì. Le dimissioni dei 18 congiuranti comportano lo scioglimento del Consiglio Comunale e l'arrivo del commissario prefettizio che dovrà guidare la città fino alle prossime amministrative. Quest'ultimo sarà indicato dal prefetto Gianfranco Tomao. Le rampogne dei vinti, la gioia dei congiuranti. Vediamo Mario Chiuto e Luigi Guglielmelli, rappresentanza entrambi del Consiglio Comunale di Cosenza. Sono sereno, la loro è una squallida manovra, dichiara a caldo Mario Chiuto. Ma nel PD si festeggia, meglio tardi che mai, commenta Luigi Guglielmelli. Era un anno che premevamo per la sfiducia, chiosa Marco Ambrogio. E poi parla Morrone, che in qualche modo viene indicato in questi giorni come lago della bilancia che alla fine è calata a sfavore di Mario Chiuto. Parla Morrone, non mi identifico più in Forza Italia. Ecco perché mollo o chiuto. La motivazione suona un po' gelita e tra le righe si legge. Nella foto vediamo appunto una foto di repertorio di Morrone insieme a Silvio Berlusconi. Tra le righe si percepisce un po' di imbarazzo. Il mio percorso politico all'interno di Forza Italia è da considerare concluso. Vedremo poi se sarà realmente così. Il provvedimento d'aspo di tre anni per un tifoso dei Rosso-Blu. Quindi ancora disordini legati alle tifoserie. D'aspo di tre anni per un giovane tifoso del Cosenza che avrebbe lanciato un petardo durante la partita giocata al Marulla contro il Catania afferendo un'aspettatrice seduta vicino a lui. E poi un'ultima ora. Auto in veste tre pedoni. Donna finisce in ospedale. Il terribile impatto nel pieno centro a San Lorenzo del Vallo. E di tre feriti. Il bilancio del pauroso incidente che si è verificato ieri sera poco prima delle 21. Lungo viale della libertà al corso principale di San Lorenzo del Vallo. Resta riferita una donna anziana e di suoi due figli. Come consuetudine viene spiegata la dinamica che ha portato a questo incidente. i lunghi segni lasciati sull'asfalto della frenata sembrano lasciare pochi dubbi sulle cause dell'incidente anche se saranno un'indagine in corso a fare piena luce sulla dinamica dello scontro. Pronto soccorso, l'affondo dei medici fatto con i piedi. Vediamo di quale pronto soccorso si tratta. Cera del sindacato dei medici dice In poche stanzette vengono stipate 4-5 persone. La dignità umana è mortificata. La riunione di tutte le categorie mediche che si è svolta ieri mattina a Cosenza convocata dalla FIMG calabrese contro il decreto della proprietà prescrittiva varato dal governo Renzi è servita a stabilire una serie di azioni di protesta che saranno ulteriormente vagliate dall'Assemblea nazionale della FIMG in programma per il prossimo 13 febbraio a Roma. E vediamo nella foto il dottor Rosalbino Cerra, vicepresidente regionale della FIMG. E andiamo avanti, sotto organico e caotico, i parenti esasperati siamo in attesa da ore, nessuno ci dice niente, naturalmente non si parla di un piccolo nosocomio di montagna, ma si parla dell'ospedale annunziato di Cosenza, sotto organico e caotico, i parenti esasperati siamo in attesa da ore, nessuno ci dice niente. E' una situazione analoga a quella che purtroppo si verifica ogni giorno negli ospedali di tutta la Calabria. Legno chimica, abbiamo trattato ampiamente, la nostra redazione ha trattato ampiamente questo argomento anche nella trasmissione di fatti in diretta con un'intera puntata dedicata alla questione della legno chimica. L'inchiesta si tinge d'azzurro. Iole Santelli interroga Renzi che farà il governo per risolvere l'enigma dei tumori sospetti. La deputata forzista si sofferma anche sui terreni venduti prima del 2006. Dunque la rappresentante che più volte si è tentato di sfiduciare all'interno del partito, la rappresentante regionale di Forza Italia, protetta anche da Silvio Berlusconi, si mobilita per la legno chimica. La protesta si tinge d'azzurro e approda di nuovo in Parlamento. Stavolta su iniziativa della deputata e coordinatrice regionale Iole Santelli che ha depositato venerdì scorso alla Camera un'interrogazione scritta a risposta orale sull'ex stabilimento di Cancello Magdalone. L'atto della parlamentare ripercorre a giorno tutte le vicende che hanno riguardato l'azienda rendese da 2006, anno della messa in liquidazione della società di Mondovi ad oggi. Rispetto ad altre analoghe interrogazioni presentate dal ex deputato del Movimento 5 Stelle Sebastiano Barbanti e dall'europarlamentare grillina Laura Ferrari, quello della Santelli, rivolta al Premier Matteo Renzi e al Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti aggiunge alcune inquietanti novità. Soprattutto si sofferma sui casi di tumori mortali avvenuti nei pressi dell'ex fabbrica e su cui ora indaga la Procura di Cosenza. E poi un dato negli otto mesi, compresi tra l'inverno del 2008 e l'estate del 2009, si sono verificati nelle immediate vicinanze a Via Settimo che dista più o meno 100 metri da dove sorge l'ex stabilimento che adesso è diventato un eco-mostro, lo possiamo vedere nella foto. Ci sono stati circa 10 decessi per tumore, quindi 10 decessi per tumore nella stessa zona nel giro di pochissimi mesi, non si parla nemmeno di anni. E poi da Castrovillari risposte concrete sulla sanità presto attive le sale operatorie, sindacati e comuni, accordo raggiunto. Forza Italia riparte dai giovani, qui si parla nuovamente di politica, riparte dai giovani la sezione azzurra di Forza Italia. Il primo evento è stato previsto per oggi con naturalmente i big del partito. La giornata saranno presenti Giuseppe Graziano, Iole Santelli e Roberto Chiuto insieme a Luca Morrone e Luigi De Rose, coordinatore regionale di Forza Italia, Giovani William Bertha. E ancora un atto di vandalismo, vandali danneggiano auto e case, è successo a Castrovillari e a Morano Calabro. Invece SEL denuncia una intimidazione e si tratta di... Neanche il tempo di essere affissi che i manifesti del gruppo politico sono finiti come carta straccia, quindi strappati volontariamente per in qualche modo danneggiare l'immagine del partito. Delitto abato, la calibro 7,65, ci spostiamo a San Cosmo Albanese, la pistola sequestrata al rumeno che poi confessò domani l'esame dei RIS. Vendetta familiare, Christian Dulan chiamò in causa quale mandante il cognato della vittima, Salvatore Buffone. Verranno effettuata nella giornata di domani, si legge le dichiarazioni, le analisi balistiche sulla pistola calibro 7,65 trovata in possesso di Christian Dula nel giorno in cui i carabinieri busserano alla sua porta. Il trentenne rumeno tentava di disfarsi dell'arma ma non ci riuscì. Poi, messo alle strette dai militari della compagnia di Corigliano Calabro, parlò e disse che quell'arma l'aveva usata per uccidere Carmine Avato, 52enne muratore di San Cosmo Albanese, freddato nella notte tra il 14 e il 15 novembre scorso. Indicò pure i mandanti, puntando l'indice, contro il 31enne Salvatore Buffone, cognato della vittima, chiamato in corretta appunto a questo punto dal rumeno accusato di aver eseguito l'omicidio su istruzione di un mandante. A Rossano gli confiscavano i beni, ora però tornano suoi. Si parla del caso. Ho trovato conclusione nella sentenza del Tribunale di Castrovillari dopo una lunga ed articolata istruttoria di battito orientale, la complessa vicenda giudiziaria che aveva interessato il noto imprenditore di Rossano, Giovanni Acri, al quale a seguito di una condanna inflitta dell'ex Tribunale di Rossano per usura ai danni di una persona al cui generalità non sono rese note, anche egli noto imprenditore rossanese, proprietario terriero, erano stati confiscati tutti i beni immobili, immobili e titoli finanziari per un valore di milioni di euro. Ebbene, adesso questi beni verranno restituiti. Rossano raffica di purti in case e negozi, gli indagati davanti ai giudici in Tribunale a Castrovillari per i loro interrogatori, tre uomini e due donne, tutti con precedenti e residenti in città. Truffa Santuario, l'intesa col promoter dell'ex economo russo. Stiamo parlando naturalmente della truffa al Santuario di San Francesco. Truffa Santuario, l'intesa col promoter dell'ex economo russo, a sinistra l'ingresso della nuova basilica del Santuario, l'avvocato dell'imputato chiave del processo, Cedolia, non è convinto dell'avvento del suo assistito negli investimenti illeciti. E nei giorni scorsi ci sono stati diversi interrogatori proprio su questo processo per la sottrazione del denaro dalle casse dei frati minimi di San Francesco di Paola e le deposizioni in particolare di chi controllava le finanze del monastero sono andate a sfavore dell'ora addetto al controllo dei mezzi economici, Cedolia, che avrebbe dirottato sui suoi conti ma anche sui conti dei suoi familiari le somme destinate invece per ben altri scopi. Paola, pioggia di finanziamenti pubblici per la biblioteca della Basilica, la regione ha stanziato ben 200 mila euro che serviranno per il restauro. C'è un impegno di spesa per finanziare un docufilm su San Francesco. Nella foto naturalmente uno scorcio della biblioteca di Paola. E poi lo sport Crotone, segnale di forza e carattere, Juric è soddisfatto. Il successo contro il Bari ha cancellato il K.O. con il Perugia, Budimir, questo potrebbe essere la svolta per la Serie A. Catanzaro nuovo passo falso, cade in casa contro l'Acra, Gasperi giallorossi solo due punti raccimolati nelle ultime cinque partite. Reggio Calabrie, il derby crocevia della stagione la gara con la Vigor Lamezia dà il via al campionato con Cozza che punta punta centrale con Zampaglione come punta centrale ballottaggio tra i pali. Gatto deve fare a meno di tre giocatori in Malerba resta in dubbio. Calli poi il giorno della finale parliamo di volley Serie A2 maschile il Torino oggi si gioca la Coppa Italia alle ore 14 al forum di Assago contro il Sora diretta della TV su Rai Sport. Passiamo adesso invece alla lettura delle prime pagine ci spostiamo sul virtuale nel frattempo vediamo la rubrica il Santo del Giorno Oggi 7 febbraio è la quinta domenica del tempo ordinario la Chiesa accanto ai malati le guarigioni dai malati operati da Gesù sono segni eccezionali del regno che viene quotidianamente la Chiesa esprime questa sua fede nel regno con l'assistenza ai malati il sacramento dell'unzione degli infermi è stato enunciato da San Giacomo con queste parole chi è malato chiama a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui dopo averlo unto con olio nel nome del Signore e la preghiera fatta con fede salverà il malato il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati li saranno perdonati e prima di passare alle notizie alle prime pagine delle testate virtuali dei giornali vediamo un servizio su una tragedia che si è consumata ieri proprio nel Vibonese nella località turistica simbolo di questo scorcio di Calabria che è Tropea la caduta dalla rupe proprio di Tropea di un sacerdote si era pensato all'inizio ad un incidente però i carabinieri che indagano sulla vicenda propendono per l'ipotesi del suicidio nessuno l'ha spinto non sarebbe stata una caduta accidentale donaldo lamanna 42 anni si sarebbe suicidato vanno in questa direzione le indagini condotte dai carabinieri di Tropea guidati dal capitano Francesco Manzone che così era agguagliato la procura diretta da Mario Spagnolo il sacerdote la cui morte ha provocato commozione e sgomento tanto nel Vibonese quanto nel Regino dove donaldo aveva iniziato la sua missione pastorale si sarebbe gettato nel vuoto dalla rupe di Tropea al culmine di un grave momento di depressione alimentato da diversi problemi di carattere familiare e personale la madre ammalata un fratello ammalato un altro deceduto giovanissimo diversi testimoni ascoltati dai militari dell'arma hanno descritto il religioso come rabbuiato e rattristito negli ultimi tempi durante i quali ogni piccolo problema gli sarebbe apparso come un ostacolo insormontabile parroco dell'annunziata e priore dei frati minori molto amato sempre nelle ultime settimane avrebbe anche manifestato di avvertire sin troppo il peso della responsabilità un disagio somatizzato anche sul corpo con evidenti ripercussioni sulla sua salute psicofisica fino all'estremo gesto da Tropea per la CINUS24 e torniamo alla lettura dei giornali parliamo della Gazzetta del Sud online che si sofferma naturalmente sulla caduta di Mario Chiuto Cosenza sfiduciato Occhiuto 17 consiglieri comunali di minoranza e l'incidente di Rossano auto tampona moto ape morta una donna e poi ASP costretta a pagare quasi 2 milioni di euro è una notizia che riguarda il Sud ma riguarda Messina essenzialmente e poi le notizie internazionali la Corea che lancia un razzo a lungo raggio una situazione che continua a preoccupare poi la salma di Regeni a Roma l'Italia l'hanno ucciso in Egitto la balanga in Tirolo 5 morti per l'enorme Slavina che si è staccata su un versante causando appunto la morte di 8 persone corruzione arrestato sindaco di Brindisi ne abbiamo parlato in precedenza vediamo il Vibonese lo riconoscete dalla fotografia in primo piano ne abbiamo appena parlato nel servizio padre Alto Lamanna si è suicidato vanno in questa direzione le indagini condotte dei carabinieri di Tropea guidati dal capitano Francesco Manzone che in tale senso ha ragguagliato la procura diretta da Mario Spagnolo l'insano gesto compiuto al culmine di un grave momento di depressione morte sospetta ancora cronaca dopo una caduta alla villa dei Gerani due sanitari indagati un 67enne è deceduto dopo essere stato in cura alla villa dei Gerani religioso cade della rupe di Tropea e muore sul colpo questa è la notizia era naturalmente la notizia battuta in precedenza prima degli aggiornamenti che hanno chiarito che si trattasse di un suicidio Tansi sul cantiere della Voragine una bomba d'orologeria sotto i piedi dei Vibonesi una scuola calcio da serie A lo sporting Tropea si affilia al Carpi anche fumare è un'arte con le pipe pedigrenci si parla quindi di design artigianato dedicato agli apprezzati artigiani di brognatura il prossimo appuntamento della sezione design del premio internazionale della Camera di Commercio il buon esempio che educa al positivo che educa al bello Vittorio Tedeschi titolare di un esercizio commerciale che ne segnala la dedizione con la quale si prende cura del verde pubblico in piazza Diaz fiore all'occhiello della città e ancora auto si ribalta a Porto Salvo due donne ferite l'incidente questa mattina lungo l'arteria stradale che collega Vibo Marina a Tropea scendiamo ancora ed è ancora la questione delle prescrizioni a tenere banco anche se in una maniera diversa in una sua declinazione ricettarirosa per la FNPC necessario che il direttore generale faccia chiarezza la sigla dei pensionati manifesta forti perplessità sull'utilizzo della carta intestata in sostituzione delle ricette ormai terminate visto che non tutte le farmacie hanno recepito la nota di Federpharm ed è una modifica che ha gettato completamente nel caos il sistema delle farmacie calabresi parcheggio in piazza municipio il forum non è la città che vogliamo il coordinamento dell'associazione Vibonesi ha avviato una raccolta di firme a sostegno dell'abolizione del provvedimento del comune in quanto non conforme alle norme vigenti e andiamo sulla nostra testata online appunto la Cinews 24 che apre naturalmente con le dimissioni di Occhiuto Cosenza decade Occhiuto si sono dimessi 17 consiglieri che hanno firmato le dimissioni nello studio di un notaio di Cosenza decade l'amministrazione Occhiuto soli 4 mesi dal voto e poi incidente mortale sulla 106 un morto e due feriti Occhiuto la riflessione Occhiuto decade e il centro sinistra forse si ricompatta Racket ha la mezza Escalation infinita i sindacati annunciano nuovi scioperi questi sono i video disponibili da consultare per il Tg per quel che riguarda l'archivio Tg rimborsò per le antimafia l'inchiesta si allarga e poi Don Aldo Lamanna si è suicidato nessuno l'ha spinto si legge non sarebbe stata una caduta accidentale ma un gesto volontario e infine serie B il crotone espugna anche il San Nicola di Bari sul sito disponibili gli highlights e con questo si conclude il nostro appuntamento con il Tg Mattina approfondiremo poi le questioni più importanti quelle che riguardano soprattutto la nostra regione nella prossima edizione del telegiornale come al solito le 13.45 grazie per essere stati con noi amici una giornata domenicale caratterizzata da forte maltempo sull'Italia ma attenzione il maltempo nella giornata domenicale si concentrerà al nord Italia e sul centro d'Italia la perturbazione che causa tutto ciò in discesa lungo la fascia tirrenica arriverà al sud e sulla Calabria in particolare non prima della serata di domenica della nottata sul lunedì quindi regalando una giornata domenicale per chi abita in Calabria ancora accettabile e sicuramente non accompagnata dai disturbi che invece il centro d'Italia in particolare la fascia tirrenica subiranno nel corso della giornata stessa tutto ciò è determinato da una perturbazione che scende lungo la dorsale italiana lungo la fascia tirrenica alimentata che trova di corri nell'alimentazione di aria fredda che arriva proprio dal centro Europa in direzione della nostra penisola e in particolare del Mediterraneo centrale questa condizione di variabilità riporta le condizioni diciamo meteo finalmente in linea con il periodo la pioggia è utile almeno quando arriva in maniera graduale alla nostra penisola perché è piovuto pochissimo nel corso del mese di gennaio e quindi bisogna risanare le falde acquifere dando uno sguardo d'insieme alla nostra penisola direi che fase di maltempo acuta su tutte i settentrioni d'Italia e sulla fascia tirrenica con precipitazioni di stampo temporalesco abbastanza diciamo acute su tutta la fascia tirrenica in discesa verso il meridione d'Italia nel corso della giornata della nottata su lunedì ma il tempo che da ovest si stenderà verso est con precipitazioni di stampo temporalesco farà freddo cadrà la neve sotto quota mille metri su tutto l'arcappino e sull'appennino settentrionare la fase di maltempo domenicale lo dicevo sarà acuta sulla fascia tirrenica con precipitazioni di stampo temporalesco rinforzo la ventilazione del maestrale con mari agitati e neve e a quote con precipitazioni agli 800 millimetri sulla catena appenninica meridione d'Italia che vedrà una mattinata domenicale ancora con cieli nuvolosi ma aumenterà la copertura nuvolosa in particolare sulla fascia tirrenica nel corso del pomeriggio e più probabilmente della nottata arriverà la pioggia nelle ultime ore della serata di domenica e si estenderà dal tirreno cosentino a tutta la Calabria centro-settentrionale disturbando sicuramente la giornata di lunedì con questi fenomeni e lo dicevo sarà una domenica caratterizzata inizialmente da una mattinata ancora gradevole con cieli nuvolosi ma l'aumento della copertura nuvolosa lascerà diciamo presagire il peggioramento che nel corso della seconda parte di giornata si manifesterà dapprima sul tirreno cosentino e poi sul ascendere verso diciamo il Bibonese e interessando tutta la Calabria centro-settentrionale e la giornata di lunedì vedrà appunto gli effetti di questa perturbazione con pioggia diffusa sul cosentino catanzarese da ovest verso est sul Bibonese e il maltempo tenderà a diciamo permanere anche nella giornata successiva di martedì in particolare le ore pomeridiane e tornerà la neve ad altezze prossime ai mille metri anche al merito dell'Italia direi che per oggi è tutto un saluto con Notaro per gli amici di Laccini visita il sito www.laccinews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia